Torna il venerdì 3 settembre, Olzano Castello, la grande opera del maestro Giacomo Puccini. A partire dalle 21 saranno rappresentate in piazza Umberto I, Olzano Castello, due importanti opere del maestro Lucchese, Suora Angelica e Gianni Schicchi. Entrambi gli atti unici diretti dal maestro Antonio Bellandi, con la regia di Girolamo Deraco e Maria Elena Romanazzi. Delle ultime opere, la prima esecuzione del 1918, quindi un Puccini maturo alle prese anche con il genere dell'opera buffa. Quindi vedremo un'opera estremamente tragica come Suora Angelica e il contraltare sarà la comicità di Gianni Schicchi. Sarà un'edizione, voglio dire, spumeggiante perché anche la regia sarà innovativa, sarà un bellissimo spettacolo, insomma lo possiamo già dire anche prima di rappresentarlo. Come è noto Giacomo Puccini ha soggiornato nell'estate del 1895 nella vila del Castellaccio, dove ha trovato l'ispirazione per comporre il secondo e il terzo atto della Bohème. Stiamo parlando della ripartenza dell'anno scorso, purtroppo l'opera in piazza, non l'intera manifestazione, ma l'opera in piazza è stata interrotta a causa delle note vicende dell'emergenza sanitaria. Quest'anno siamo alla ripartenza, una ripartenza un po' diversa, che vede una regia che ha voluto una rappresentazione di un'intera opera pucciniana, che è l'aspetto principale di questa manifestazione, direttamente in piazza, dove la piazza diventa, il palazzo del capitano e la fontana diventa palcoscenico naturale della rappresentazione. Grazie a tutti.